Duro colpo al traffico di sostanze stupefacenti in Alto Molise e di un arresto 5 denunce, il sequestro di un considerevole quantitativo di droga all'esito dell'ultima operazione condotta dai carabinieri. A finire in manette trasferito in una cella del penitenziario di Ponte San Leonardo, un pregiudicato napoletano bloccato sulla statale 17 nelle vicinanze dello svincolo per Macchia Godena a Frosolone, nascosto in un tacco delle scarpe aveva occultato all'interno di esso un involucro di 33 grammi di cocaina. Dinanzi ai giudici dovrà rispondere del reato di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Il 47enne Campano, secondo gli investigatori, sarebbe il corriere che fornisce cocaina ai fornitori sul mercato della provincia di Isernia. La seconda operazione antidroga si è svolta a Sesto Campano ed ha coinvolto altri tre partenopei. in possesso di diverse dosi di marijuana e cocaina per un peso complessivo di 15 grammi. Con i tre tossicodipendenti di fuori regione è stato denunciato per detenzione illegale di stupefacenti anche un 45enne di Capracotta sorpreso dai carabinieri con alcuni grammi di hashish. L'ultimo blitz dell'arma si è svolto invece ad Agnone. I militari hanno denunciato un giovane automobilista, già conosciuto dalle forze dell'ordine per spaccio, sorpreso al volante dopo aver assunto stupefacenti e nonostante avesse la patente di guida revocata.